Salve a tutti e benvenuti al Training Camp. Ci troviamo in presenza delle squadre Orefice e Reale. Infatti alla mia destra abbiamo... Orefice Enrico Collin Luca Fiorentino Budia Corrado Polese Basita Carlo Polese Giovanni Apnea E la mia sinistra Mattia Farinello Roberto Reale Sciro di Natale Gaetano Asciuno Francesco Reale Lorenzo Mani Fai parte della squadra? Ok La partita è terminata con la vittoria di Orefice per 3 a 2 Con i gol di 2 per Chirici e 1 per Fiorentino Mentre per Reale Mentre per Reale 1 di Ascione e 1 di Farinello 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 Ragazzi cosa ne pensate voi visto che è andata male per voi? Vabbè per noi è una buona partita Vediamo di dare il best goal a questo ragazzo Mi raccomando Mentre voi? Che dobbiamo dire? Goal! Ebbia! Luca, Luca Ecco bravo Ehi Parlate al microfono Ma tu pure sei stato in gol Allora Dedico i miei gol Uno alla mia fidanzata E uno alla mamma di Carlo Eeeh Vai Chi lo vuoi usci? Io a Rosanna Palumbo Anche se non l'ho fatto Io dedico il gol a... L'amica di me Ecco qua Alla Alla lo dedico Alla Vabbè Quindi Alla prossima Alla prossima Vabbè Vabbè Alla prossima Grazie a tutti.